Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove mi vedrete un po' sarà. Allora, l'ho fatto qua perché è un po' più natalizio, c'è il mio albero dietro, ecco, mettiamoci così. Volevo augurare a tutti una buona festa dell'immacolata, io sono un po' bloccata col collo, come sempre, d'altronde. Niente, volevo augurare io e le acciughe dietro. Non mi chiede perché ho delle acciughe in camera, però guardate solo l'albero. E niente, volevo augurare appunto, buona festa dell'immacolata, spero che facciate l'albero. Se avete già fatto l'albero scrivetelo sotto nei commenti, questo video sarà molto breve. Io devo ancora fare l'albero, perché questo video lo sto facendo ovviamente prima. Quindi vi lascerò poi la foto del mio albero come foto di copertina, quindi se non uscirà la copertina, perché poi ci riterrò a far vedere l'albero. Se no troverò un'altra copertina, magari metterò l'oro, che sono molto più belli. Sì, ci sono anche le foto con il mio ragazzo, però. E niente, vi auguro buona festa. Passate una buona festa dell'immacolata. Non so se avete l'usenza come noi di fare l'albero lotto preciso, però io forse per me lo farei prima. Perché per l'anno tutto avrei voluto... Che posso fare? Forse per me lo farei tutto l'anno all'albero, come il mio ragazzo. Che uscirà il video anche a lui oggi. Quindi andate a vedere anche il suo video. Che è molto divertente. Perché lui ha l'albero tutto l'anno. Io vi saluto, passerò con le vostre famiglie, vostro ragazzo, sorella, con chi volete. Ci vediamo nel prossimo video, vi aspetto sempre qui sul mio canale. Uscirà, ve lo dico sempre, un video al giorno per 25 giorni fino a Natale. Niente, buone feste. Io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Scrivetevi sotto nei commenti, hashtag albero di Natale. Saluto tutti. E ditemi, mi raccomando, come è il vostro albero. Grazie.